Il maniscalco, un personaggio vero. Impariamo a conoscerlo. Il maniscalco, un personaggio vero. Il maniscalco rinnova ancora oggi un'antica tradizione. Un personaggio vero. Impariamo a conoscerlo. E questo è il vero radiale ZX Michelin. Imparate a conoscerlo. Pneumatico con larghe spalle, possente torace, scultura aggressiva per mordere l'asfalto. Migliaia di lamelle per rompere il velo d'acqua e tenere sul bagnato, in curva, in frenata. Plurimatici ZX Michelin. Dietelo al gommista. Voglio i veri radiali ZX Michelin. I plurimatici più chilometrici. Michelin, l'inventore del radiale. ZX Michelin, il radiale che non finisce mai.